Gemma è una donna completa, ogni giorno mi appaggia la vita. Lui è rimasto molto capito da questo bacione, giusto? Ma era un bacio, non era un bacione. Sì, quello che mi chiamava bacione. Non era proprio appassionato come quello che aveva descritto, era un bacio. Un bacio, che è stato? Quello che tu chiami bacione però, questo qua, no? No, il bacio mi sa. No, era un poco... dal bacione, non è che la differenza sia così tanta, dal bacio che ci siamo dati al bacione. Non so, metti la classifica tu. Cioè, secondo la mia classifica... Nella sua classifica, questo è un bacione. Era un bacio di passione, perché lo desideravo, è venuto questo bacio senza pensare così. Ma gli hai dato tu? È stato... Eh, ce lo siamo dati, guarda, ce lo siamo dati. Sì, 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 perfetto. Lui ha detto alla redazione che ha ripensato al tuo sapore, vedi tu. Oh! Addirittura. Eh beh. Ma che sapore ha? Sì, che sapore ha? Il sapore del tempo. Ha detto anche altre cose. È un sapore che non tutti possono assaporare, secondo me. Non tutti. Gemma. Comunque che atrocità che devo fare. Gemma è gemma. C'è proprio delle cose... Il sapore di gemma. Grazie. 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 Grazie.